Ciao a tutti, Fatine e Delfetti! Io sono Federica e questo è il mio canale, Veri ASMR. Faccio questa brevissima presentazione, prima che parta il video vero e proprio, per dirvi che quello che state per vedere è un roleplay ASMR, cioè un video con un gioco di ruolo, rilassante, che serve per provare a farvi sentire i tingles, cioè i brevetini, caratteristici proprio della ASMR. Utilizzerò la mia amica, qui, che si sottoporrà ad un'analisi armocromatica. Se non sapete che cos'è, guardate il video! Vi ricordo che si tratta appunto di un gioco di finzione, quindi non prendete per buone tutte le informazioni che ci saranno nel video. E anzi, se volete farvi analizzare seriamente, fatelo fare da dei professionisti o da delle professioniste. Giù in descrizione vi lascio il link di Papere in Armocromia, le ragazze da cui io mi sono fatta analizzare. Tra l'altro, nel canale di Elenia, trovate tantissime, tantissime curiosità e tantissimi spunti sull'armocromia. E le sue, sì, sono informazioni veritiere e sicuramente molto, molto interessanti. Fatemi sapere a proposito se voi vi siete mai fatti analizzare da una consulente o un consulente esperto di armocromia e in caso di quale stagione siete. E fatemi anche sapere se vi va a quale stagione pensate che io appartenga. Magari nel prossimo video oppure su Instagram vi dirò il mio risponso. Adesso però indossate le cuffie e rilassatevi completamente perché stiamo per iniziare. Se vi piace, lasciate un like per farvelo sapere. Ciao! Ciao cara, benvenuta. Sei comoda su questa sedia? Perfetto. All'edì, appuntamento con me è vero? Molto piacere, io sono Ferry e oggi mi occuperò di svolgere la tua analisi armocromatica. Sì, certamente, ti spiego un po' di cosa si tratta. Dunque, svolgiamo quest'analisi all'interno del tuo programma di consulenza d'immagine. L'analisi armocromatica si fonda sulla teoria del colore e ha lo scopo di individuare la palette cromatica che più si addice alla tua figura. La palette cromatica, insomma, che valorizza al meglio i tuoi colori naturali. Questo ci permetterà di creare dei look sia per quanto riguarda l'appigliamento sia per quanto riguarda il trucco. Veramente perfetti. Hai già un'idea di come si svolgerà l'esame? Perfetto. Allora, tu dovrai semplicemente rilassarti e io mi occuperò di tutto quanto. Innanzitutto, guarderò, in generale, i tuoi colori naturali e poi accostrò al tuo volto dei trappi in modo da valutare la reazione della tua pelle ai colori e stilare una classifica di quelli che esaltano al meglio la tua bellezza. Ripeto, dovrei solo rilassarti. In una seconda fase poi procederemo all'analisi dei rossetti ma ti spiegherò tutto passo passo, d'accordo? Per ora, dobbiamo necessariamente raccogliere questi bellissimi capelli. A proposito, sono tinti oppure sono proprio i tuoi naturali? Ho capito. In realtà, sì, l'analisi armocromatica si svolge sempre mettendo qualcosa che tiri indietro i capelli come una fascia oppure delle mollette perché in teoria il colore non dovrebbe influenzarci. Come ti dicevo, è molto importante individuare la reazione della tua pelle ai vari colori. Bene, bene, bene. Andà una veloce occhiata così mi sono già fatta un'idea ma è opportuno andare a verificarla innanzitutto vorrei partire stabilando il tuo sottotono o meglio la tua temperatura della pelle come dici? Fredda? Ah, ho capito hai sempre acquistato un fondotint è baserosato è vero? ma c'è da fare una distinzione si tratta di una distinzione che fino a un po' di tempo fa non era poi così nota il colorito ovvero il colore predominante della nostra pelle che può essere più rosato più beige giallo o più scuro non è la stessa cosa che la sua temperatura tu puoi avere un incarnato rosato ma dal sottotono caldo o viceversa o viceversa un incarnato giallo ma dal sottotono freddo eh sì comunque sei sicuramente caldo ma andiamo a verificare voglio valutare innanzitutto la reazione della tua pelle all'oro e all'argento vabbè questo è sorprendente in realtà sembri stare molto molto bene con entrambi i colori ma è proprio per questo che svolgeremo un'analisi approfondita a proposito caro il rossetto che stai portando adesso sull'abbro è un tatuaggio vero? hai fatto il trucco semipermanente? sì no non preoccuparti riuscirò a valutare lo stesso adesso prendo qualche appunto perfetto allora vediamo un po' andiamo a verificare la profondità ecco stiamo quindi al viso un troppo scuro e vediamo un po' la reazione della tua pelle è un troppo molto chiaro decisamente la profondità sembrerebbe essere medio alta ma voglio fare un'ulteriore prova come dici? che cos'è la profondità? la profondità è la quantità di nero contenuta nei colori quindi attraverso il parametro della profondità andiamo a valutare quanto la tua pelle riesce a tollerare i colori scuri senza perdere la sua luminosità e la sua naturale bellezza comunque ho appena introdotto un altro parametro che ci servirà ho costato la tua pelle un trappo grigio adesso voglio andare a determinare il croma il croma è la brillantezza dei colori voglio vedere quanto riesci a tollerare colori saturi e brillanti personalmente a me stanno bene i colori desaturati quelli un po' polverosi quelli che insomma hanno una dose di grigio all'interno vediamo un po' accostiamo il tuo viso a due tipi di rosa uno più chiaro e brillante l'altro più scuro ed è saturato anche qui non ho dubbi decisamente il tuo croma è medio basso il trappo rosa teneva a spegnerti vedevamo prima la stoffa e poi il tuo viso noi vogliamo che invece il tuo viso sia valorizzato proverò con un altro colore brillante il giallo ecco ecco il problema dell'oro che ho provato all'inizio su di te i colori caldi ti stanno bene ma devono essere poco brillanti voglio anche valutare il contrasto cioè cercare di capire quanto colori contrastanti stiano bene se accostati al tuo volto ho preso proprio i due opposti secondo me hai un contrasto medio basso va bene facciamo un'ultima prova adesso vorrei provare su di te alcuni rossetti scusa mi sei ogni tanto mi distrago con il suono degli oggetti spero che sia rilassante anche per te il primo che voglio provare su di te è shy shine della MAC un bel rossetto rosa dal finish non opaco ok pronta vediamo un po' certo è un po' strano applicarlo sopra il tuo tatuaggio ma come mai hai deciso di fare dei trucco semi permanente proprio di questo colore te l'hanno consigliato ho capito prendo qualche appunto a mio avviso in questo rossetto c'è una percentuale di grigio troppo alta per te ti strucco con un batuffolo di cotone va bene si si questo è uno stroccante molto molto delicato è un acqua micellare l'hai mai provata? il brand è zafira organica io mi trovo molto bene con alcuni dei loro prodotti vedrai vedrai che con una semplice passata rimuoveremo tutto il trucco ecco qui perfetto hai visto? è stato semplicissimo voglio provare adesso un altro rossetto questa volta utilizzerò un amplified sempre di mac toponet credo si pronunci così non lo so è scritto D U B O M M M E D un rosso mattone che però contiene un po' di blu all'interno giusto perché avevamo avuto il dubbio sui colori freddi anche se penso che la spiegazione sia quella che ti ho dato prima guarda già solo così applicando in maniera del tutto grossolana il rossetto riesco a vedere che questo non è proprio il tuo colore è vero questo è un rossetto che non è particolarmente brillante quindi da questo punto di vista potrebbe starti bene ma è eccessivamente freddo quindi nonostante sia scuro ha diverse caratteristiche che non vanno bene per te scusa ti ho sporcato prendo un altro patuffolo di cotone ok alla fine di questa analisi ti darò un pdf te lo manderò basterà che tu mi dia la tua mail e in questo pdf scriverò tutte 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 le marche di cosmetici di trucchi di rossetti e di ombretti che potrai utilizzare per valorizzarti e anche i capi di appigliamento migliori per te e perché no le tinture di capelli che più ti si addicono nel caso volessi cambiare questa volta utilizzo un bel rosso di ufidra più caldo del precedente anche stavolta non ho scelto un colore eccessivamente brillante quindi dovrebbe valorizzarti eh sì con un pennellino sarebbe meglio ma c'è tempo faremo anche una prova trucco dopo sicuramente dovremmo impiegare gli strumenti più adatti non sono questi ho bisogno di pennellini spadole e palette prenderò un altro punto eh sì tranquilla adesso te lo tolgo questa che abbiamo svolto è solo una prova funzionale per la nostra analisi armocromatica ti sei rilassata? beh questo mi fa molto piacere allora a breve ti dirò intanto a voce il tuo risponso devo strucarti per bene prima però congera lineamente la testa brevissima sai questo quest'ultimo rossetto che ho provato su di te è waterproof quindi c'è bisogno di insistere un po' di più per taglierlo tutto ok ci siamo riuscite adesso si asciugherà e poi dopo se vorrei ti farò una bella maschera al viso ok comunque è ora di compilare il tuo risponso a mio avviso la dominante della tua stagione è caldo soft questo significa che stai bene con colori caldi e un po' desaturati quindi non troppo brillanti io utilizzo il sistema di classificazione a 16 stagioni quindi ogni persona che viene analizzata da me rientrerà all'interno della classificazione in una delle 16 stagioni e ad ogni stagione naturalmente corrisponderà una palette di colori da indossare la tua stagione cara è sicuramente l'autunno assoluto è una stagione bellissima una stagione che prevede una palette appunto di colori caldi e un po' smorzati ma scuri il marrone cioccolato con una punta di grigio all'interno è uno di quelli che ti donano di più questo naturalmente non vuol dire che tu non possa portare anche colori di altro tipo devi solo saperli dosare e abbinare bene ma ci sarà scritto tutto nel pdf che ti consegnerò mi puoi dire a proposito la tua mail con la e ok punto it perfetto allora ti manderò il documento in giornata intanto ti ringrazio per esserti sottoposta a questa analisi e se vuoi ci vediamo dopo per un altro trattamento di bellezza sul tuo viso di bellezza di bellezza che ti ringrazio per che ti ringrazio per